Marco Pulini, non a stagione con la Fuzz al Cesena, finalmente ci siamo, si ricomincia, indosserai la fascia da capitano. Sì, è la prima partita del mio nonno anno consecutivo alla Fuzz al Cesena, indosserò la fascia di capitano con molto onore per questa società, assolutamente. Che dire, sarà una partita molto interessante, ci siamo preparati bene, che vinca il migliore. Obiettivo stagionale, insomma l'anno scorso vi siete fermati ai playoff del Girone e adesso? E adesso vediamo, hai detto che ci siamo fermati ai playoff del Girone perché l'hai detto dopo, prima non lo sapevamo, quindi ti dico la stessa cosa, che noi partiamo sempre per crescere, per migliorarci, anche quello che abbiamo fatto in sede organizzativa è sempre per far meglio e per far bene, però sono cambiate tutte le squadre del Girone, non sono quelle dell'anno scorso. La squadra comunque ha bisogno di tempo per rodare, quindi di conseguenza stiamo lì a lavorare per cercare di migliorare il tutto, però non è scontato che accada. Sono a fianco alla Fuzzle da circa quattro anni, è nata questa collaborazione per un'amicizia storica con Paolo che mi ha avvicinato a questo mondo, che ne sono sempre più partecipe da quattro anni a questa parte e sono contento della passione che mi ha trasmesso.